Dai, facciamo l'intro ragazzuoli Dai, Marcin, basta Ma l'essere tu è? Scusa Sì, son fermo Marcin, ma sono in F5, ti vedo brutto scemo Dai Buonasera a tutti ragazzi, sono Crayon Benvenuti in questo nuovissimo video Oggi torniamo a fare l'hack e Renci La terza parte di questa sfida Che non finirà mai, secondo me Sono insieme a Marcin E Simone, ciao Ciao a tutti, io ho la testa di Simone Ed è bruttissima Se vi state chiedendo perché abbiamo queste teste Semplicemente ognuno ha scelto di mettersi la testa Del proprio nome, quindi io ho la testa di Martina Marcin, ovviamente di Minecraft Si intende E abbiamo scoperto che Simone è un uccello Bene Giallo Allora ragazzi Se avete visto le precedenti che Renci Martina è scarsa, riassunto E per dargli una possibilità di non essere Per forza lei la perdente della che Renci Della sfida finale Faremo un sistema punti in cui questa partita Sarà doppia Verrà doppio Quindi alla fine ci sarà una mega classifica Si deciderà in questo modo Il vincente, il perdente, il secondo arrivato E niente Quindi in pratica io diciamo che ho ancora la possibilità di non arrivare ultima Anche se penso che sia difficile che riesca a vincere proprio in generale tutta quanta la che Renci Però potrei non perdere Quindi è una buona cosa Cos'è il primo perché riceverà 3 punti Il secondo 2 E il terzo 1 Ma in questo caso è tu Ne prendi 6 Ok 6, 4 e 2 Perfetto Pesa Pesa il 4 Possiamo cominciare ragazzi Lasciate un mi piace perché è tornata la che Renci Anche sul mio canale E quindi cominciamo E se lo vedevi Allora questa mappa ragazzi è una specie di rush Quindi guardate se tipo Da qui inizia Vieni a far vedere Marti Da qui inizia Se io tocco l'acqua Mi parto dall'inizio sempre Anche se alla fine Ok Grazie per questa informazione Anche se sia alla fine La cosa è molto bella Cominciamo? Io ho già cominciato Ma come avete già cominciato? Ma ci sono i gettoni? Ah è vero No No Niente gettoni oggi Ma dove si va? Di qua? Ma si va di qua? Raga sta già laggando tantissimo Ma si va di qua? Oh io vado di qua No stavolta non ho laggato No non si va di qua Beh si Raga non so dove devo andare Man Man Raga potete soffrire questa parte Perché non c'è la cascata Ah ma non devo toccare l'acqua Ah ok Ma si no No lì l'acqua corrente va bene Non è visto il tutorial Scusa No raga mi torna indietro Ma vi state divertendo? Quindi anche superate il primo pezzo voi Ma state zitti quando parlate Non riesco a farlo Ma come è riuscito a farmi vincere? Mica raga Is impossible Vabbè grazie che volete farmi vincere Cioè non ci speravo Ma sto cazzo Non ti voglio far vincere Raga io continuo a morire Vabbè Vabbè raga ciao Adesso mi piace un blocco Martina aspettaci Ma cosa? Mi avete mai aspettato in tutte queste kerenci? Le litro Le litro Ma com'è che Martina ci è arrivata a due colpa? No ma sono tornata indietro Ma no Ma indietro dove? No no Mi sono un attimo persa in un percorso fatto di lava Ma non è tornata? Ma come faccio a prendere le scale? Marce è un disastro sta cosa Ma io mi sa che mi son persa Sì vabbè Ah no ma sono tornata indietro Raga no mi sto perdendo tantissimo Ma dove sto andando? Ma sti cazzi Scusa Ma mi sto ieri E noi siamo ancora a fare il salto iniziale E se muoio? E se muori di partita all'inizio Non muoio non muoio Meno male che c'è un sacco di vita Meno male Raga ma voi siete ancora a zero di punteggio Ma com'è possibile? E non l'abbiamo ancora cominciato Ma come si può fare quel salto? L'ho fatto Ma come fai? Ma basta questo poco L'ho fatto senza il tuo cosino Ce l'ho fatto No Madonna mia Ma ci non ho più le orecchie Ok Oh no raga No raga non me lo potete dire così C'è l'elitra? Dimmi di sì C'è l'elitra dai Oh veramente? Dai non lo so usare io Ma scusate Ma pure in caverna ci sono l'elitra? Meno male che lo vedono nel video Cos'è meno vedono che siete scarsa In ogni ora anche Raga non funziona a me l'elitra È taroccata Ma in tutto ciò dove sei tra l'altro? Che noi siamo lontanissimi No ma è possibile Ma c'era una scimmietta nel video Ho sentito Perché sono finita della ragia No Sono tornato all'inizio Marty Cadi in acqua Hai una bella sorpresa se cadi in acqua Oh no l'avevo quasi fatto Ma so anche fare dei Ok Raga ci posso anche fare dei secchiali d'acqua Sì 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 l'ho fatto raga Ho fatto l'elitra Perché dei secchiali d'acqua per trollarci? Che figo Troviamo Martina Eren No 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 sto per morire No sto per morire No sono morta Oddio dove respawno? Come sei morta? Oh meno male qua stavo preoccupando All'inizio sai? No ma io non rispondo all'inizio raga Martina quanto cazzo sei avanti? Raga non è solo tanto avanti Capito che devi vincere perché se non vincete devo farla io la challenge E' vero Merda Io ti puoi Aspetta No Marci ma se io non vinco Che bello La facciamo tutti la challenge mi sa Finisce in stra pareggio No devi arrivare Devi arrivare No 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 aspetta tu vinci perché un punto lo fai per forza mi sa Non lo so non ci capisco più niente aiuto l'hype Oh no non è vero è vero finiamo tutti in pareggio se tu No no ma io vinto Se io arrivo prima Marci secondo Non è giusto ho vinto due kerenci io Eh mi spiace No no sono tornata qui sono tornata da Marci che palle Ma come sei tornata da me? Eh figa Ma dove siete ragazzi quindi c'è un checkpoint lì? Eh sì dopo l'elita c'è il checkpoint Porca Eva oh Raga ma è possibile che io devo partire sempre che sono l'ultimo? Sì ma tanto arrivi primo tanto non è infatti Ma come si fa sto pezzo della piovra? Della piovra Si occanta Che praticamente come vogliava già finito tutto Perché continuo a dire zio canta? Mi fa troppo ridere No ma io non capisco Ah ma non so se forse sbaglio strada io Non lo so Non c'è nessuno mai che mi aiuta Zio canta No no amici Oh mio dio Mi spiace intorno a mio amici Ragazzi non so cosa devo fare Eh re non so cosa dirti Non so nemmeno dove ti sei fermato La mia medicina La mia medicina è stata direi continuamente zio canzio Ti rilassa dirlo Ma c'è un pezzo che tipo non riesco ad andarci Non capisco se questo lì o mi sbaglio strano Ma io non credo sia possibile quel salto Ma zio pedra Secondo me è impossibile quel salto E' fatto da 5 Infame Potevi dimolo subito che lo facevi così Per te sono le lame Le litro Le litro Sì Alla ci ha raggiunto No ma c'è una ragnatela raga Eh sì ci sono finita 20.000 volte No Zio canzica Sono arrivato però Sì l'ho fatto Oddio Ma raga ma Dimmi senza che Eren ti vedesse No no Eren non mi ha visto Però perché c'è il litro? Anche tu c'hai il litro Laga Ma qua dove c'è la lava cosa devo fare? Laga amici Amici ma qua dove c'è la lava cosa devo fare amici? Oh no Ma no No devo tornare Io ho provato a città Oh meno male Io ho provato a città I'm still alive I'm still alive E figaro Sono le barche Io mi appello al buon senso degli iscritti Bisogna falsificare questa Questa messa in scena Eren Stai zitto quando parli Perché io è tutta È tutta la carence che gioco in questo modo Voi due avanti Io indietro che Muoio di solitudine Ma devo passare da sotto Per caso Oh ma non si muoresce a fare sto pezzo Figaro Dai Marci Tu che sei il mio amico Eren ma pensa quanto sarebbe bello Se tutte e tre Fareggiamo Arriviamo alla fila Ma sto cazzo Me lo merito io di non farla Dai Eren Dai Dai Eren Dai devo andare sulla nave E poi Poi sulla piovra E poi E poi ti guardi intorno E poi E poi ti guardi ancora intorno E devo salire sul minecart insomma Eh vabbè Da dove si prende il minecart Eh da dove passa secondo te Eh come ci arrivo lì vicino Ci salti Da dove No raga no raga Ma che difficile è questo salto Noo minzeca Ma quanto è difficile dai No Marci Guarda che è veramente difficile Raga Era arrivato a tipo lontanissimo Sono ripartito No raga ma Zio peracotta Marcia Martì Era arrivato tipo in lontanissimo E mi parte Tutto 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 Ma raga ma non ci arrivo da qui a prenderlo Comunque sto cavolo di minecart mi sta dando sui nervi Forse è questo che fa scattare No no Fai sto pezzo Muoviti così lo facciamo fermare Ma ditemi come si fa che lo faccio Ma dove lo vuoi prendere? Da dove passa più vicino no? Eh ma da dove? Non te lo so spiegare Da lì Da lì Da vicino Da quale piovra? Da quale tentacolo? Quello a sinistra Quello a sinistra Quello a sinistra Che arrivo qua? Ah ma ci si arriva Eh ma non ci arrivo fino lì Ci siamo arrivati noi Ci arrivi pure tu Ma devo saltare e prenderlo al volo Eh sì Uoma Ma va a cagare Ma non è vero mai nella vita Devi prenderlo al volo eh Stereo Quello te lo garantisco io Ok Ma da questa parte No regali No le scale torte no Di nuovo lì No però dai Le scale torte Le scale torte? Che lo stai dicendo Marci? Raga è Le scale torte Quelle messe sul palo Oh no 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 Non voglio farlo Marci Che se tu cadi lì Cadi nell'acqua e riparti da qui Marci L'ho fatto Ok Ok Hai fatto le scale torte? Sì Ma sei seria? Io ti sto odiando Sì Sono più avanti adesso Dove devo andare Ma quanto mi fai schifo da 1 a 10 Io sono Marci aiutami Che lei non è un'alleata affidata Aspetta un attimo Se io faccio così Non è un'alleata affidata Marci No sono caduta C'è un pezzo con le liane Che è impossibile raga Bravo da lì devi prenderlo Come faccio non ci arrivo Ti togli Marci Che cacchio Ma è impossibile Marci non mi aspettare Stavo cercando di fare il procuro e tu stai lì fermo Ma non ce la fai a prenderlo al volo sto merda Vai vai giù Ecco lo sapevo Zio canzio Zio canzio Ere io l'ho fatto a primo tentativo Perché mi dovete imbrogliare sempre Ere io l'ho fatto a primo tentativo Ma siete degli imbroglioni Ere io l'ho fatto a primo tentativo Anche io l'ho fatto a primo tentativo Se lo dici un'altra volta non ti credo comunque Zio canzio Ere muoviti perché voglio far fermare sto cavolo di Allora se mi dite dove devo passare davvero Ma da lì Ma te lo dici zio canzio Dove sei adesso? Stai andando a fuoco Sono nella barca e vado anche a fuoco perché è una merda sto livello Aspetta sono ecco sì aspetti che arrivi e ti aggrappi fine vai Eh figa però svegliati zio Cioè mi devo buttare e cliccare con il destro Sì sì Ma raga non lo prenderò mai cioè Eh figa però Marti come le fai a prenderlo le liane? Le liane sono impossibile non ho idea di come farle Marci Ok l'ho fatto Come l'hai fatto? Come hai fatto? Come hai fatto le liane? Ti prego spiegamelo Non l'ho fatto più Cosa? Non l'ho più fatto non sono morto Ok Ok raga se arrivo lì non vi aiuterò mai più Siete stati troppo conti Ma Eren ma più di dirti come si fa cosa dobbiamo dirti? Raga fermi fermi tutti No no mi imbrogliate Mi imbrogliate Il pezzo nell'altro Oh madonna Oh madonna l'ho preso E mo? Oh ce l'hai fatta Sei il nostro punto adesso Questo è un checkpoint? Sì sì sei il nostro punto Thanks Raga nooo Sta scattando un botto Eh ma a me scatta un botto raga Eh raga non so cosa dirvi Ah che palle Noi mi avete voluto aiutare Noi ma c'è un pulcino qui Che stress Ci mancava il pulcino Pio Muoviti Eh ma sono appena arrivato Ma fammi almeno giocare un attimo No Sei lento Eren levate Ancora ma cosa vuoi? Dai sempre in mezzo alle palle Sto pulcino Pio Ma dai Dai ma come sei? Ma va guarda mi hai fatto cadere Oh ti sta bene così Ma no non mi sta bene Sei proprio un infame Un pulcino infame Mamma mia spero che arriva il trattore Che ti Travolge Ti sfragella Ti spiaggia Ma mi hai detto che Ok raga Diciamo che per questo primo episodio Della Karenci è tutto Siamo in una situazione critica Ci siamo ritornati tutti quanti qui Io sono primo Ciao Ma tu hai i tuoi sogni Remblitz Do the impossible See the invisible Ro Ro Fight the power Touch the untouchable Break the unbreakable Ro Ro Fight the power